Il secondo è la distanza dei sette giri e Tescari, sesto, sempre nella distanza lunga, si qualifica i primi due, Antonioni ricerca la posizione, Villa in quarta, ancora Grugni davanti, Tescari ricerca la scia con Grugni che allunga quando mancano un giro e mezzo, a termine di qualifica, distaccato ancora Villa, Antonioni sembra fuori portata mentre rimangono attaccati Grugni e Tescari che insieme a Cozza e Giordano saranno non ufficialmente i finalisti in questa categoria.